Oggi in commissione c'è stata un'importante audizione, si è avuto la presenza del direttore generale dell'azienda ospedaliere di Padova, il dottor Flor, del professor Ferrara, l'uscente preside della facoltà di medicina dell'università di Padova e dell'avvocato Zanon della regione Veneto. Si è discusso del protocollo di accordo fra università e azienda ospedaliera sul funzionamento ovviamente di questa azienda integrata, ovvero il funzionamento e le parti che competono il funzionamento per quanto riguarda l'azienda ospedaliera e quindi il sistema regionale della sanità e per quanto riguarda la parte universitaria. È stata un'audizione interessante, si sono ovviamente succedute domande sui quali c'è stata una comune intesa da parte di commissari, ovvero che il protocollo deve essere portato avanti nello stretto giro affinché l'azienda ospedaliera di Padova possa lavorare sempre al meglio e dare un servizio sempre maggiore al territorio della città di Padova e della regione del Veneto. Il protocollo d'intesa tra azienda ospedaliera di Padova e l'università è fortemente innovativo, non a caso è frutto di un lavoro di tre anni e quindi introduce anche a livello nazionale delle novità fondamentali dal comitato scientifico ai cosiddetti DIDAS che sono i dipartimenti di aggregazione scientifico assistenziale e quindi una modalità diversa di lavoro ma anche di programmazione, vuol dire formare meglio, formare in maniera più esaustiva ma anche e soprattutto proporre l'assistenza alla ricerca e la didattica in maniera più compiuta coinvolgendo non solo la struttura dell'azienda ospedaliera di Padova ma anche la struttura universitaria ma anche le reti nel territorio. Su questo ci siamo soffermati proprio per capire meglio le conseguenze e le ricordute che potranno esserci all'interno della regione Veneto.